Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, riutilizzo delle acque reflua in agricoltura, razionalizzazione dei prelievi e riduzione dei consumi attraverso le buone pratiche, queste alcune delle azioni a lungo termine, mentre tra gli interventi a breve termine si prevedono razionamenti, pianificazione dell'uso irriguo, utilizzo dei volumi morti degli invasi e ricorso alle risorse sotterranee. Rimangono fondamentali, si legge nel comunicato della Regione, le attività di vigilanza per prevenire prelievi non autorizzati e il monitoraggio, considerato fattore chiave per attenuare gli effetti negativi della siccità. Una serie di misure che rientrano nelle linee di intervento del report Siccità 2022 dell'autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia. Occorre da parte di tutti, ha sottolineato il segretario generale dell'autorità di Bacino Leonardo Santoro, una serie presa di coscienza di come la sensibile diminuzione delle risorse disponibili dovuta alle evidenti mutazioni del clima imponga scelte decise per contrastare fenomeni siccitosi purtroppo sempre più invasivi. Soltanto interventi efficaci, seppure talvolta impopolari, conclude, frutto di una costante sinergia istituzionale potranno attenuare disagi per la popolazione e per l'agricoltura, che altrimenti rischiano di diventare di maggiore portata e degli effetti ben più gravi. Questo tipo di misure arrivano a seguito delle scarse piogge registrate nell'ultimo trimestre 2022 e anche in questi primi mesi dell'anno. La disponibilità di acqua potrebbe risultare insufficiente a soddisfare i normali fabbisogni, si legge ancora, da qui la necessità di pianificare misure efficaci per attenuare eventuali disagi e per la cui attuazione l'autorità di Bacino effettuerà una serie di incontri con tutti i soggetti responsabili.